Lorenzo Staiti al termine di Parma, Feralpisalo 1-2, una vittoria importante questa sera in posticipo, Feralpisalo in questo momento guarda tutti dall'alto, però siamo solamente all'inizio di questo campionato. Sì, sicuramente è inegabile, abbiamo fatto una vittoria fuori casa molto importante su un campo prestigioso, però dobbiamo tenere i piedi ben piantati a terra perché è un campionato difficile e lungo e sabato già si rigioca su un campo difficile come quello dell'Albino Leff, quindi sappiamo che ogni partita è una battaglia e sicuramente quando si vince si lavora meglio e ne siamo contenti. Stai trovando grande continuità anche a centrocampo in questo ruolo da regista come titolo? Sì, non l'avevo mai praticato nel corso della mia carriera, adesso soprattutto con il fatto che è arrivata la condizione fisica, la squadra mi sta mettendo nelle condizioni di esprimermi al meglio, quindi sono contento di poter dare il mio aiuto, magari soprattutto a livello di esperienza alla squadra, però prima dei valori tecnici questa squadra ha dei valori umani, di carattere e se vengono fuori questi è dura per tutti.